Il terzo cavaliere Vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che vi si sedeva sopra con un zigon, giogo o coppia di bilance. E udì una voce in mezzo alle quattro bestie dire, una misura di grano per un denario e tre misure di orzo per un denario, e vedi, potresti non fare cose sbagliate, mea di xeis, con l'olio e il vino. Apocalisse capitolo 6, versi 5 e 6 Non ci viene detto esplicitamente cosa fa il terzo cavaliere. È implicito da ciò che dice la voce in cielo. La voce in cielo istruisce il terzo cavaliere per quanto riguarda il tasso di cambio tra grano, orzo e denaro. La voce continua a proibire al terzo cavaliere di fare male con l'olio e il vino. Ciò implica che il terzo cavaliere governa il sistema finanziario della terra. La condizione associata al terzo cavaliere è il cibo grano, orzo, olio e vino a un costo. L'uomo deve scambiare qualcosa di valore il suo lavoro, i soldi o qualcos'altro per ottenere cibo. Si è verificata la condizione o si sta verificando ora? Dobbiamo scambiare qualcosa di valore per il cibo? Sì. Quando è iniziata questa condizione? Subito dopo la caduta di Adamo ed Eva. Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Attraverso la faticare ne mangerai per tutti i giorni della tua vita. Sia le spine che i cardi produrranno per te e mangerai le piante del campo. Mangerai il pane con il sudore della fronte. Genesi capitolo 3, versi 17 a 19 Prima che Adamo ed Eva peccassero, il cibo era liberamente disponibile per loro. Non hanno dovuto lavorare per ottenerlo. Mangiarono solo quando avevano fame. Tutto è cambiato quando hanno peccato. Dopodiché hanno dovuto scambiare il loro tempo ed energia, la loro fatica, per ottenere il cibo di cui avevano bisogno. Dobbiamo ancora farlo oggi. La gravità di questa condizione, che si tratti di un piccolo inconveniente o di una estrema sofferenza, dipende dal livello salariale e dal prezzo del cibo. Il testo ci fornisce queste informazioni. Dio limita la gravità della condizione che il terzo cavaliere può imporre. La fornitura di cibo di un giorno per il salario di un giorno è il livello al quale viene sostenuta la vita, il livello di sussistenza. È anche il livello minimo per il proprietario di uno schiavo di mantenere uno schiavo. Il proprietario di uno schiavo non può fornire meno cibo al giorno di quello di cui ha bisogno lo schiavo o diventano improduttivi e muoiono. La fornitura di un giorno per il lavoro di un giorno sostiene lo schiavo e li tiene schiavi. Oggi esiste un cibo per le condizioni salariali sulla Terra? Sì, il livello di gravità varia in tutta la Terra, ma il cibo per le condizioni salariali esiste ovunque. Il terzo cavaliere impone un alimento per le condizioni salariali. Indipendentemente dalla variazione della gravità della condizione, oggi esiste in tutto il mondo il cibo per la condizione salariale. Dal più ricco al più povero, ogni persona deve lavorare per pagare o lavorare per produrre il cibo di cui ha bisogno per sopravvivere. Nessuno è esente. Quando sono iniziate queste condizioni? Quando Adamo ed Eva peccarono. Il colore simbolico nero ci aiuta a identificare il terzo cavaliere. In tutta la Bibbia, il colore nero è associato alla tristezza, al dolore e al lutto. Possa l'oscurità e l'oscurità totale reclamare ancora una volta, possa una nuvola depositarsi su di essa, che l'oscurità lo travolga. Giobbe capitolo 3 verso 5 Quindi guarderanno verso la Terra e vedranno solo angoscia, oscurità e oscurità spaventosa, e saranno spinti nell'oscurità più totale. Isaia capitolo 8 verso 22 Le condizioni di schiavitù associate al terzo cavaliere sono piene di dolore. Il zigon ci aiuta a identificare meglio il terzo cavaliere. Ogni altra ricorrenza della parola greca, zigon, nella Bibbia è tradotta con giogo. Prendete su di voi il mio giogo. Matteo capitolo 11 verso 29 Il mio giogo è facile, Matteo capitolo 11 verso 30 Perché metti alla prova Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo? Atti capitolo 15 verso 10 Rimanete saldi quindi nella libertà mediante la quale Cristo ci ha resi liberi, e non rimanete impigliati di nuovo in un giogo di schiavitù. Galati capitolo 5 verso 1 Tutti coloro che sono sotto il giogo come schiavi devono considerare i propri padroni come degni di ogni onore. Prima Timoteo capitolo 6 verso 1 Un giogo è associato a schiavitù o cattività. Questo si adatta all'uomo costretto a lavorare per il cibo di cui ha bisogno per sopravvivere. Il terzo cavaliere è la schiavitù, la maledizione, il cibo per le condizioni salariali. Il terzo cavaliere è cibo per schiavitù salariale o cattività, o uno che impone schiavitù e cattività sulla terra. È la maledizione che è derivata dalla caduta. Il terzo cavaliere è il terzo cavaliere è il terzo cavaliere.